L'altra cosa per me fondamentale è avere chiaro la differenza tra gruppo e squadra. Molto spesso si confondono queste due idee, si dice ma il gruppo è buono, il gruppo funziona, quindi vinceremo. Non è vero. Perché il gruppo è un gruppo dei ragazzi, per esempio la scuola, la classe delle scuole è un tipico gruppo. Che caratterizza il gruppo? Che stiamo insieme, facciamo una cosa insieme. Un gruppo di giocatori può avere un benissimo gruppo, funziona, si divertono, stanno insieme. Questo vuol dire che come squadra funzionerà non è detto. Perché la differenza fondamentale è che nelle squadre c'è un obiettivo chiaro, c'è un modo di giocare consapevole, ma soprattutto ci sono dei ruoli, dei ruoli stabiliti che nel gruppo non ci sono. E quei ruoli stabiliti devono essere accettati, devono essere sviluppati. Se io faccio una squadra in cui chiamo come riserva giocatori che vogliono fare il titolare e che accettano così, però loro vogliono fare il titolare, è molto facile che abbia dei problemi. Perché? Perché il ruolo non è chiaro. Non si è capito se lui viene a fare quale ruolo? Viene a fare il titolare o viene a fare la riserva? O viene a giocarsela con uno, che è anche una possibilità. Questo deve essere chiaro. Nel mondo dell'esport il ruolo all'interno dell'esquadra è scontato, si conosce. Fuori nel mondo dell'esport non è sempre così. Non succede in una squadra di pallavolo che quando il palleggiatore sta giocando male, un schiacciatore dice, senti, spostati, adesso palleggio io per un po'. Non esiste. Palleggia male? Vabbè, sarà problema dell'allenatore. Nemmeno nelle squadre aziendali, di calcio, succede che il giocatore in difesa dice, senza dire niente a nessuno, parte e va a giocare il centroavanti. Dice, questo non fa gol oggi, è un disastro, vado io. E lascia scoperta la difesa. I compagni le dico, ma dove vai? No, vado a giocare il centroavanti. Come vado a giocare il centroavanti? Così, prendi l'iniziativa così. Il ruolo in una squadra è determinante perché sia una squadra che funzioni. Se voi pensate a una partitella di calcio tra bambini, non è calcio. Tutti i bambini vanno dietro la palla. Perché? Perché non ci sono ruoli. Non è una partita di calcio, si gioca a pallone nel migliore dei casi, bambini piccoli. Perché se è una partita di calcio, bisogna dire, allora, aspetta, voi giocate in difesa, voi giocate in attacco, passiamo la palla, uno la prende e non la passa finché la perde. E questo che differenza? Allora, stabilire i ruoli, i compiti di questi ruoli, è il rapporto tra loro anche. L'idea di squadra, poi magari parleremo nella seconda parte, l'idea di squadra, di spirito di squadra, non è essere solidari, non è tirare della stessa parte, semplicemente. Una volta sono arrivato ad un'azienda e c'era come poster il tiro alla fune, no? Tutti, l'idea, le squadre e quelli che tirano della stessa parte. Il tiro alla fune è una squadra povera, non è sufficiente. Il gioco di squadra significa un gioco dei ruoli e il rapporto tra i ruoli. Allora, io sono molto bravo a fare una cosa e accanto a me gioco un giocatore che è bravo a fare un'altra cosa. E insieme ci complementiamo e funziona. Non è semplicemente abbiamo unità di intenti, tutti tiriamo della stessa parte. Il gioco di squadra è un metodo di lavoro. Non è l'unico possibile, però è un metodo che ha le sue regole. E quel metodo anche deve essere consapevole. Noi dobbiamo sapere come vogliamo giocare. In quel gioco qual è il ruolo di ciascuno. Se le cose vanno bene, come funzionano? E se le cose vanno male, come funzionano? Quando qualcosa non funziona nel gioco, cerchiamo i problemi o cerchiamo i colpevoli? Se una squadra di pallavolo riceve male e la palla è sempre staccata da rete, la squadra sa come deve giocare in quelle condizioni o semplicemente si girerà e dirà ragazzi riceviamo bene. E se non riescono, giochiamo tutta la partita e la perdiamo? Se una squadra di calcio perde palla a centrocampo, semplicemente diciamo chi è il colpevole? Chi l'ha persa? Lui l'ha persa. Lui è il colpevole o c'è un sistema di gioco per cui se uno perde palla, subito quel sistema si mette in moto per impedire che in contraattacco faccia gol? Se c'è questo modo di giocare stabilito, chiaro, con il ruolo di ciascuno, per quando le cose vanno bene, per quando c'è un errore, allora l'errore sarà parte del processo di apprendimento e non un esempio di colpevolezza. Come purtroppo spesso succede e soprattutto nelle sport succede a livello mediatico, a livello dei tifosi. Mai si analizza un problema ma sempre il colpevole, cambiamo questo, cambiamo l'altro. Quando a volte il problema è un problema di gioco da risolvere. Quindi se riusciamo a creare questi meccanismi dell'obiettivo, le persone per quell'obiettivo, un metodo di lavoro che sia consapevole e che funzioni in tutte le circostanze, allora cominciamo ad avere una struttura per poter vincere.